Si stima che 3 milioni di adolescenti siano affette da endometriosi. Che cos'è e quali sono i sintomi, le cause e i possibili trattamenti? L'endometriosi è una patologia infiammatoria cronica che colpisce la donna in età fertile. La malattia è causata dalla presenza della mucosa endometriale che normalmente riveste l'utero al di fuori dell'utero. L'impianto di questa mucosa al di fuori dell'utero sembra che origini dalla teoria più accreditata attraverso un reflusso tubarico retrogrado durante il periodo mestruale, momento nel quale questa mucosa esce dalle tube e si va ad impiantare sugli organi pelvici adiacenti all'utero. Questa presenza di mucosa che continua ad essere attiva dal punto di vista ormonale e che quindi mensilmente avrà una sua mestruazione, determina poi la storia naturale progressiva della malattia con la sintomatologia ad essa correlata. Quando parliamo di sintomatologia, nell'endometriosi abbiamo la presenza di un'infiammazione che diventa cronica nel tempo e questo caratterizzerà il primo sintomo, cioè il dolore. Il dolore è un sintomo costante nell'endometriosi ed è un dolore inizialmente acuto che si esacerba durante il ciclo mestruale. Con il passare del tempo questo dolore diventa di fondo cronico con delle riacutizzazioni in prossimità della mestruazione. Il dolore è l'espressione dell'infiammazione della patologia e l'infiammazione comporta anche altri sintomi, cioè oltre il dolore le aderenze, cioè la reazione infiammatoria fibrosa che fa fissare gli organi che normalmente sono indipendenti uno dall'altro. Questa reazione è anche responsabile dell'impatto sulla fertilità delle pazienti affette da endometriosi, poiché l'organo più delicato della pelvi, cioè la tuba, risentirà di un sovvertimento anatomico che ne limiterà il suo funzionamento e quindi inevitabilmente avrà una ripercussione sulla fertilità. L'ultimo sintomo che accompagna l'endometriosi è un sintomo legato alla presenza delle lesioni endometriosiche. Questa mucosa con il tempo va ad accrescere la sua entità e l'organismo cercando di liberarsene la invagina, la circonda e cerca di eliminarla attraverso le cellule del sistema immunitario. Questa soluzione non è ottimale perché non riesce e quindi si creano delle lesioni o dei noduli cistici che possono colpire o gli organi di superficie con le classiche formazioni cistiche o delle impianti profondi che vanno a colpire la base del pavimento pelvico, quindi che si vanno ad approfondire in strutture di sostegno. È importante, immagino, una diagnosi precoce nel caso di questa severa patologia. Qui a Fatebene Fratelli è attivo un ambulatorio dedicato. Che tipo di screening è previsto se ci vuole raccontare il percorso? Sì, la diagnosi è molto importante e anche la precocità della diagnosi. Ed è un tema che invece purtroppo spesso non avviene, quindi la diagnosi spesso è tardiva a causa del fatto che inizialmente i sintomi possono essere confusi da altre cause. Qui a Fatebene Fratelli abbiamo un ambulatorio dedicato all'endometriosi dove la paziente viene indirizzata o dai medici di base sui quali cerchiamo sempre di fare una corretta informazione o dallo specialista. Può anche accedervi da sola, diciamo, in base ad un sospetto che può avvenire in relazione al sintomo dolore. In questo ambulatorio affrontiamo la paziente e le prospettiamo il percorso di diagnosi e di eventuale trattamento guidandola quanto più possibile. Proprio sul trattamento bisogna associare il concetto di mantenimento della fertilità al concetto della diagnosi precoce perché ovviamente sono strettamente correlati ed hanno poi l'impatto finale sulla fertilità della paziente. Il trattamento dell'endometriosi prevede un approccio medico, in prima battuta negli stadi iniziali di malattia che è finalizzato al controllo del dolore e alla riduzione quanto più possibile dell'elemento che alimenta l'endometriosi, cioè la mestruazione. Laddove il trattamento medico fallisce oppure lo stadio della malattia è talmente avanzato si utilizzerà un approccio chirurgico che oggi è prevalentemente se non esclusivamente di tipo laparoscopico e quindi mini-invasivo, finalizzato a rimuovere quanto più possibile del tessuto endometriosico e quindi patologico a livello della pelvi della paziente. È molto importante il timing dell'intervento poiché deve essere quanto più possibile vicino al desiderio di gravidanza, poiché la letteratura è chiara al riguardo e ci dice che le maggiori probabilità di concepire spontaneamente nelle pazienti affette da endometriosi si hanno dopo l'intervento chirurgico, quasi come se si riuscisse a ricreare una situazione di fisiologia dell'apparato riproduttivo che ci garantisce maggiori chance riproduttive. Ecco appunto abbiamo toccato più volte il tema della fertilità, quindi endometriosi e infertilità e qualora appunto non dovesse bastare quel che ci raccontava poco fa la paziente per poter coronare il suo sogno, che cosa deve fare? Sì, consideriamo che di tutte le pazienti infertili ben il 30-40% sono affette da endometriosi, quindi la patologia ha questo forte impatto sulla fertilità della donna. Nel caso in cui dopo dei tentativi di concepimento spontaneo siano passati circa 8 mesi e non si è riuscita ad ottenere la gravidanza, sicuramente la strada migliore è quella di intraprendere un percorso di procreazione medicalmente assistita e questo perché? Perché quasi sicuramente la patologia avrà interessato e danneggiato la tuba, cioè l'organo che è deputato a far veicolare l'ovocita dall'ovaio all'utero, quindi l'organo che fa da comunicazione tra l'utero e l'ovaio, che se non funziona non consentirà mai l'incontro tra lo spermatozoo e l'ovocita e quindi il concepimento spontaneo non può avvenire. In questo percorso la donna ovviamente sarà studiata, inquadrata e gli verrà proposto il trattamento migliore per l'ottenimento del risultato e quasi sempre questo tipo di trattamento sarà una procedura che consentirà di saltare fisicamente il compito svolto dalla tuba, quindi il percorso tubarico.